ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata sugli home tour allora noi eravamo rimasti in questo quartiere di fascia medio alta e l'ultima volta vi ho fatto vedere la casa diciamo starter con il lotto 20 per 15 io continuerei per ordine quindi in questa linea e poi in quest'altra linea quindi oggi vedremo la casa dove vivono i luis eric e alice fanno parte del club degli amiconi quindi i pancake sono posizionati qui i nostri pancake e i luis sono qui ho notato che la figlia anche cresciuta comunque non è tanto bellina la figlia quindi noi giocheremo cioè ogni tanto vedremo alice e eric alle feste o ai ritrovi poi un'altra cosa veloce veloce avete non so se ci avete mai fatto caso comunque all'inizio di video del mio gameplay lo dissi che sia questo che questo le avevo lasciati vuoti invece qualche domenica fa era sotto le feste di natale mi è venuta un'ispirazione geniale perché io costruisco soltanto sotto ispirazione e ho riempito questa questo lotto 40 per 30 si chiama antica residenza e qui visto che siamo in un quartiere molto ricco perché anche questa casa vale tanto perché da questa da questa qui che è l'ultima che poi si va in questo quartiere iniziano le case proprio per benestanti quindi case complete e finite e che non manca niente quindi perché vi avevo detto che in questo spazio vuoto io l'avevo lasciato apposta perché stava uscendo vita in città e io pensavo che come ad esempio dove si potessero costruire gli appartamenti invece no quindi li ho riempiti qui ci ho messo questa qui fresca fresca di costruzione poi quando finiremo il giro ve la farò vedere e qui invece è una casa vecchia se vi ricordate ve l'ho nominata ve l'ho fatta vedere che stava al centro al centro di Windenburg ed era la casa della mia semina Sara la famosa che al negozio di piante e l'ho messa qui poi un giorno vi spiegherò il progetto è da sistemare perché dovrebbe stare da questo lato qui oppure la lascerei così non lo so comunque poi vi spiegherò il progetto per questa casa un domani quando arriveremo qua giù ok quindi andiamo a vedere la casa dei Louis come è nata questa casa è una villetta particolare io le stavo facendo tutte quante basic diciamo da 39.000 però poi quando prende l'ispirazione anche nell'arredamento è meglio che lo faccio subito perché se poi mi metto a pensare ok poi dopo questa cuscina la farò così poi la farò con lì quando arriveremo qui quando arriverò un giorno con un zio magari mi scordo gli ultimi progetti mentali e quindi nisba ecco perché mi lascio delle case base e delle case invece belle finite e allora è a due piani e ci sono tre camere e due bagni in realtà sono due camere la terza camera sarebbe uno studio io poi mi metto sempre a tre camere perché giustamente uno può poi organizzarsi come come vuole no magari quella potrebbe essere una terza camera e così via allora qui ci sono c'è l'ingresso con gli alberi queste siepi con delle fontanelle di acqua una panchina una lanterna ok per esempio per andare in giardino non si passa da fuori ma si passa dalla cucina però vi mostro prima il giardino che quindi diciamo che al termine del giardino c'è questa bella piscina quadrata con i toffi il simbolo carino da piscina delle panchine lo scivolo perché tutte queste case che vi sto mostrando adesso sono nate quando è uscito lo staff pack divertimento in cortile e quindi ogni casa sembra una scemenza però ogni casa è stata progettata sul colore del tavolo fuori quindi questa qui per esempio l'ho messa trasparente e bianca quindi la casa è un po' sul grigio, sul nero, sul bianco è un po' così avete visto la casa dei pancake che era sul rosso e il tavolo fuori era appunto sul rosso quindi mi sono sfiziata tantissimo quando è uscito quel pack ma comunque ci sono anche tanti elementi mischiati io uso tutto delle espansioni ragazzi infatti quando voi andrete a scaricare la casa al lato vi dice tutto quello che uso ok quindi il patio è così qui c'è il terrazzino c'è il grill qui si mangia e vari tavoli per metterci poi il cibo, torte e quant'altro ecco il secchio e questa è la porticina da cui i sim escono per andare in giardino ok allora entriamo in casa quindi si entra e vi ho detto che è una casa particolare perché ah ma stanno tutti quanti a casa giustamente lui è lo chef e sta in cucina perché è una casa almeno il piano inferiore disposa sui livelli perché volevo una cucina realzata per una volta quindi fare una cosa un po' diversa quindi si stare un gradino e questa è la bellissima cucina di Eric come vedete poi c'è il salotto vedete anche l'ingresso si scende dal gradino e c'è il bar un bel jukebox un po' anticato il tavolo questi bellissimi quadretti di cucina perfetta qua c'è il salotto altri quadretti qui c'è la tacca panna le scarpe poi da questa porticina come vedete c'è il bagnetto ve lo faccio vedere meglio appena si entra trovate il lavandino davanti con i mobili di medicinali ok qui l'angolo nel water e dietro questo muro c'è una bella vasca con tutto l'occorrente asciugamagna tanti accessori carini eccesso della biancheria e ok poi questa scala porta a piano superiore eccoci qua c'è un corridoio un tappeto e questa è la camera da letto c'è anche l'armadio incassonato un po' stile diciamo sciabbi va sul bianco molto carina questo è il piccolo studio c'è il computer gli scacchi i vari quadri libreria mensoline e questa porticina porta sul terrazzo dove io ho messo giusto i tappetini da yoga e gli strumenti per fare un po' di palestra qui c'è anche la musica un diffusore quindi almeno uno questo bel terrazzino lo sfrutta anche così finché noi ci sono le stagioni sfrutto tantissimo i spazi all'aperto poi il bagnetto che io vi dissi che questo qui se lo riconoscete è il bagno di Marco e Morena che adesso è in chiave diversa l'ho modificato però io vi dissi che faceva parte di una delle mie case eccolo qui con l'idromassaggio toni del rosa quindi quello sotto è grigio questo qua sopra è rosa poi c'è una bella cameretta che era vuota ed è rimasta vuota perché io con Lewis non ci gioco e quindi avete una bella cameretta poi da riempire ecco qui quindi questa era vista fiume completa costa sui 120.000 tre camere e due bagni ve la faccio vedere anche in galleria come la trovate lotti e per sicurezza fate sempre clic su avanzate perché io non mi ricordo mai quelle che mi dà per avanzate e quelle no eccola qui vista fiume completa è già scaricabile villetta completa di tutto solo la cameretta è da ridare hashtag willcreek home build eccolo qui eccola qui la riconoscete così perfetto ragazzi spero che questa home tour vi sia piaciuto anche questa casetta fatemi sapere cosa ne pensate ah e poi un'altra cosa che mi incuriosisce se per caso scaricate dei miei sim o delle mie casette mi farebbe piacere se mi raccontate cosa stanno facendo le nostre cioè i miei sim che scaricate cosa gli state facendo fare oppure se avete facebook nella mia nel mio profilo facebook richiedetemi l'amicizia trovate il link sotto in descrizione e magari mi potete mostrare delle foto delle case dei sim giustamente che usate mi farebbe tantissimo piacere ok per oggi è tutto vi lascio al prossimo home tour a presto ciao